L'ordine delle parole è sempre un grande mistero quando stiamo imparando una nuova lingua, ma oggi facciamo chiarezza! Ciao a tutti, io sono Stefano, il vostro prof nativo d'italiano e oggi sono qui per darvi alcune informazioni sulla posizione delle parole ancora, già, appena e mai in italiano. Ci concentreremo sulla posizione di queste parole al passato. Prima di iniziare non dimenticare di schiacciare il pollice in su e iscriverti al canale per non perdere nessun video futuro. Le parole che vediamo oggi si chiamano avverbi, avverbi di tempo perché aggiungono un'informazione temporale alla nostra frase. Ora vedremo come si usano queste parole con il passato prossimo. Guardiamo questa frase. Già cenato? Hai già cenato? Qui io ti sto chiedendo se hai già mangiato o se devi ancora farlo. Come puoi vedere qui, dove posizioniamo la parola già? Beh, tra l'ausiliare avere e il participio passato mangiato. Se ti ricordi, quando abbiamo un passato prossimo dobbiamo usare il verbo ausiliare, avere o essere e il participio passato. Ecco, se poi aggiungiamo un avverbio di tempo, allora dobbiamo metterlo in mezzo. Secondo te posso dire hai cenato già? Hai cenato già? In realtà puoi dirlo, questo perché l'italiano è una lingua flessibile ma generalmente è preferibile mettere questi avverbi tra l'ausiliare e il participio passato. Vediamo altri esempi. Posso dire ho finito appena di studiare? No, in questo caso proprio non funziona. Perciò io ti consiglio di mettere gli avverbi sempre in mezzo, così sicuramente non sbaglierai. Vediamo altre frasi. Non ho ancora comprato un regalo per mia madre. Non ho ancora comprato un regalo per mia madre. Oppure non sono mai andato in vacanza in Italia. Non sono mai andato in vacanza in Italia. È tutto chiaro? Benissimo! Allora ci vediamo presto! Ciao!